Mi chiamo Simona Fontana, sono avvocato abilitato all'esercizio della professione forense dal settembre 2007, nello studio in cui lavoro da prima come praticante e poi come avvocato mi occupo di diritto civile, diritto amministrativo e diritto urbanistico. Negli ultimi anni mi sono formata nell'ambito del diritto del lavoro e del diritto di famiglia, ho poi creato un mio personale progetto che ho intitolato Mamma che lavoro. Mamma che lavoro consiste nell'organizzazione di incontri informativi che rivolgo alle donne mamme, lavoratrici, dipendenti, autonome, iscritte alla gestione separata, freelance, in cui affronto i temi legati ai diritti e doveri della loro particolare situazione lavorativa, in cui tratto degli strumenti di conciliazione che la normativa offre al fine appunto di consentire la conciliazione famiglia-lavoro. Ciò con particolare riferimento poi alle ultime novità introdotte dal Geobact e dalla legge di stabilità. Propongo questi incontri in luoghi informali frequentati dalle famiglie, per cui librerie, biblioteche, consultori, asili nidi, scuole materne, in quanto uno dei miei obiettivi è proprio quello di eliminare certi formalismi che secondo me rischiano di allontanare la professione di avvocato da quella che è la sua principale finalità, ossia sviluppare nei cittadini una consapevolezza circa i loro diritti e i loro doveri. Mamma che lavoro poi prevede per le partecipanti interessate anche dei progetti mirati, volti all'individuazione dei diritti e dei doveri legati alla loro particolare posizione lavorativa e alla creazione insieme alla cliente di un piano di conciliazione da poi proporre al datore di lavoro. Il format mamma che lavoro si rivolge poi anche agli imprenditori innovativi che pongono il benessere dei propri lavoratori al centro delle loro scelte imprenditoriali e quindi gestisco insieme a loro la genitorialità nel suo complesso tramite consulenza formativa interna, consulenza strettamente legata relativa quindi all'individuazione della tipologia contrattuale più opportuna per consentire appunto la conciliazione famiglia lavoro e tramite consulenza poi alle risorse umane sul piano legale strategico. Mi trovate su LinkedIn e sul mio blog dove racconto quello di cui mi occupo.